Lotto numero 283, Filippo de Pisis, Moulin de la Gallette, 1927, olio su cartone, le dimensioni sono 50 per 60, l'opera è firmata e datata in basso a destra, De Pisis 27, opera autenticata presso l'archivio generale delle opere di Filippo de Pisis, viene messo in gara 25, 26, 27 mila euro per offerte ricevute al banco, 28 in sala, 28 in sala, cosa mi dice il telefono Eleonora? 28 mila euro per la prima, per la seconda, 29 Giovanni, 30 in sala, 30 mila euro per la prima, per la seconda, se non sento altre offerte aggiudico in sala a 30 mila euro per la prima, per la seconda, 30 mila per la prima, per la seconda, 1, 2, 3.